Grazie mille, allora intanto vorrei dire che sono un po' angosciata perché mi sembrava una lezione di fisica, mi sentivo un po' agli esami di maturità e mi sono un po' ansieggiata veramente, un sacco quindi mi devo un attimo calmare. Allora ciao a tutti, buonasera, grazie per avermi invitato, la Puglia è stupenda, non me l'aspettavo così. Come ha anticipato Maria Pia, io sono Martina Dell'Ombra, Marti per gli amici, Martina Dell'Ombra sul web e sono una web star. La mia frase identificativa è sono una ragazza normale con un grande sogno politico ed è esattamente ciò che sono perché è molto importante rimanere fedeli a se stessi e soprattutto ai propri status di Facebook. Io vivo a Roma, fortunatamente a Roma Nord, che è quel posto creato per far stare i romani ricchi e benestanti, al sicuro riparati dalla zona più periferica di Roma Sud, dove ci stanno delle persone estremamente pericolose e fastidiose come Rom, immigrati e giornalisti freelance, qualcuno c'è anche qui. Sì, vi vedo, vi vedo. Vivevo con i miei genitori fino ad un anno fa in una bellissima villa con piscina, con loro e con il mio cane Copen, che è un barboncino nano, che in quanto barboncino nano è molto riccio ed è molto nero, quindi io lo pettino tutti i giorni strappandogli questi capelli, diciamo lisciandolo, perché negro e riccio fa molto povero, quindi non è il caso di tenerlo così. Però lui, Copen, non soffre, non si fa male perché se facesse male direbbe aia. Invece mi guarda al massimo a baia, quindi è tutto a posto. Invece da un annetto sono andata a vivere da sola in un attico di 180 metri quadrati che mi ha comprato papà, perché è molto importante diventare indipendenti. Il mio sogno più grande nella vita è quello di diventare una persona importante, prestigiosa e riconosciuta. È per questo che ho deciso di diventare una politica, perché i politici sono i nuovi VIP. Questo è assolutamente innegabile. Faccio un esempio, Maria Elena Bosch è chiaramente una nuova Belen, un po' più abbondante. Oppure Trump è chiaramente un nuovo Brad Pitt che compensa in ricchezza ciò che gli manca in bellezza, tanto è uguale, non cambia niente. Ovviamente ho tutte le qualità per essere una politica di livello. Punto primo, sono di una famiglia molto benestante e molto conosciuta a Roma. Punto secondo, mio papà dà da lavorare ad un sacco, un sacco di persone. Punto terzo, e lo posso giurare qui davanti a voi e ve lo posso anche dimostrare, non sono competente pressoché in nulla. Io non so fare veramente niente, giuro possiamo provare, mi può mettere alla prova, non lo so le cose. Questo significa che potrei perfettamente fare il segretario di partito o ancora meglio il ministro. Quindi sono lanciata su questa strada, molto luminosa per me. Certo che come tutte le persone che vogliono diventare dei politici, ma anche delle persone di livello, se volete diventare importanti nella vita, è molto importante essere persone culturali. Ed io infatti sono super culturale perché ho a casa una libreria che mi ha fatto appositamente un designer, che è costato un sacco di soldi, dove ci sono un sacco, un sacco di libri. Libri di scrittori importanti, quelli famosi Wallace Shakespeare, James Juis e Dante. Non il cantante che lavora con Rovazzi, ma uno molto più vecchio, poeta talmente vecchio che è praticamente morto, che tutti devono conoscere. Questa cosa di avere tanti libri, la suggerisco anche a voi per essere persone culturali, perché oggi comunque se non si è persone culturali non si viene rispettati. Ovviamente avere tanti libri non significa che li dovete leggere tutti, perché questo può essere molto, molto dannoso. Vi fa invecchiare, come si vede da qualcuno qua dentro, vi fa imbruttire, ma soprattutto vi toglie tempo, tempo prezioso, che voi togliete delle cose molto più importanti, come ad esempio andare all'aperitivo. Se non andate agli aperitivi non troverete mai lavoro e sarà tutto un disastro. Però, però ovviamente dovete averli, non dovete leggerli, ma dovete fare finta di averli letti. Faccio un esempio. Ora io ho citato James Juis in questo mio speech. Quando uscirete probabilmente tra di voi parlerete di James Juis, ma tu l'hai letto, tu non l'hai letto. Ovviamente no, nessuno l'ha letto perché nessuno lo legge. È una cosa incomprensibile, lunghissima, che di solito vendono con la guida alla lettura, per cui figuratevi, è illegibile. Però dovete far finta di averlo letto. Per fare questo vi potete rivolgere al più grande strumento culturale della nostra epoca. Questo. Non il cellulare che serve a mandare fotopork in realtà, quindi non è il cellulare, ma quello che c'è dentro. Internet. Potete infatti fare riferimento a Wikipedia. Per l'appunto, anche adesso ce l'avete in mano, prendete e cercate su Wikipedia James Juis, guardate velocemente che cosa ha scritto, troverete delle cose che citano Molly, delle Winx, eccetera. Voi memorizzate tutto quanto e poi, quando siete fuori, ne parlate. Sembrerà che voi, effettivamente, abbiate letto questa cosa improponibile. Questo è il grande potere culturale di Internet. Internet, effettivamente, ha espanso tantissimo la cultura, l'ha resa molto più democratica, l'ha resa molto più pop, l'ha resa molto più facile, l'ha resa anche un po' più ignorante. Perché, comunque, su Internet tutti sono dei cultural makers, l'ho detto bene? Sì, grazie. Allora, sono tutti dei cultural makers perché tutti possono scrivere su Internet. Può scrivere il Presidente della Repubblica come può scrivere Gino il barbiere di Ostiense. E chi è che decide che quello che scrive il Presidente della Repubblica sia più importante o più figo di quello che scrive Gino il barbiere di Ostiense? Nessuno! È per questo che è stata fatta una legge sui vaccini, ad esempio. Quindi questo vi fa capire come tutti quanti all'interno di Internet siano dei creatori del contesto culturale, anche quelli che non lo sembrano. Ad esempio gli haters. Gli haters non solo sono parte del processo culturale ma hanno una creatività che supera i confini dell'umano. Vi faccio un esempio. Da quando sono una web star, la cosa più bella in assoluto che mi hanno scritto è Vorrei pisciare sulla tua lapide. Ve lo giuro, è una cosa secondo me stupenda, che supera i confini della creatività dell'insulto. Pone nuovi orizzonti immaginifici e vuota l'insulto della sua capacità offensiva. Perché oggettivamente non ti puoi offendere se uno ti dice vorrei pisciare sulla tua lapide. Per vari motivi. Il primo, che se hai una lapide, di base sei morto. Sì. O sei uno zombie. Ma non è una cosa positiva. Quindi sei morto di base. Sarebbe peggio, diciamo, se ti pisciassero in faccia mentre stai prendendo la brioche al bar oppure mentre ti pieghi e raccogliere i 50 euro che ti sono caduti dalla giacca uno ti pisce in faccia. Non è bello. Quello sarebbe molto offensivo. Punto secondo è una persona che frequenta i cimiteri. Quindi, ragionandoci, o è un mormone e quindi vive in una casetta di legno nel suo villaggio e vicino c'è un cimitero che lui può andare regolarmente a frequentare oppure è un becchino. Oppure, una terza opzione, è un elettore della Lega. Perché? Perché gli elettori della Lega in realtà sono molto simili ai mormoni. Ovvero, sono nel 2017 come noi, ma vivono come se fossero nell'Ottocento. Non soppartano i negri, non soppartano i froci, non soppartano l'unità d'Italia e non soppartano la grammatica contemporanea, per come l'abbiamo. Grazie. Inoltre, questa persona sta condividendo con voi un grave disagio. È incontinente. È chiaramente incontinente. Quindi, un becchino, mormone, incontinente e leghista. Ci ritroviamo di fronte a questo. Ma fa qualcosa di più. Fa qualcosa di molto umano. Esprime il suo disagio profondo solo e soltanto con voi. Cioè, questa persona, che non mi conosce ma mi odia, decide di far venire fuori tutta questa sofferenza. Si toglie i pantaloni, si abbassa le mutande, se lo tira fuori, le lapidi fra l'altro non stanno più in basso, quindi mira anche in alto, perché non so che cimiteri frequentate voi, ma ormai sono tutte alte. Quindi cerca di prendere la mira in alto, tipo l'uomo ragno, e vi piscia addosso, dichiarando così il suo fallimento della sua vita, della sua dignità e soprattutto della sua prostata. E lo fa solo per voi. Bisogna dirgli grazie. Io mi sento di dirgli grazie. Perché d'altra parte è a questo che serviamo noi politici, noi guru, noi VIP. A farci pisciare addosso dalla gente. Ovviamente da morti, o sul web, che comunque è praticamente la stessa cosa. In modo tale che loro ci possano riversare addosso una quantità incredibile di odio totalmente scollegato, sconnesso, ingiustificato, senza rendersi conto del motivo per cui sono realmente arrabbiati. e quindi non si possono davvero ribellare a niente, lasciandoci di fatto il potere di decidere. Cosa? Tutto. Tutto. Come se noi, noi VIP, noi guru, noi politici fossimo gli unici svegli in un paese completamente addormentato che sogna di pisciare sulle nostre lapidi mentre noi, da svegli, costruiamo il mondo nel quale loro si sveglieranno l'indomani senza chiedere il loro permesso né tantomeno la loro opinione. Perché la loro opinione, del resto, è sempre sbagliata. D'altra parte, chi è che si fiderebbe mai di un leghista, mormone, incontinente, becchino? Tu ti fideresti? Grazie.